ciao ciao a tutti cari ciao 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 benvenuti o bentornati nel canale allora in questo video vi andrò a mostrare qualche acquisto che ho fatto da Tiger 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 quando vedrete questo video saranno passate praticamente già due settimane dagli acquisti ma vabbè meglio tardi che mai ok iniziamo sono entrata pensando di non comprare nulla ma vabbè poi in realtà iniziamo con queste carinissime penne come potete vedere sono a forma di chiave qui c'è la mina e ragazzi cosa volete che vi dica non è che mi servissero però c'è da dire che a parte che sono troppo 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 carine fate troppo bene e poi le penne sono anche delle cose utili fondamentalmente dai quindi che dite me le abbonate e ho preso queste queste penne qua poi 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 ho preso un'altra penna non tanto per la sua estetica perché insomma tappino in plastica non è che sia bellissima però ha questo pompò e fa un suono abbastanza interessante oserei dire e quindi quando ho sentito il tatto il suono ho detto vabbè dai portiamoci a casa anche questa penna colpo un po' poi ha le penne un euro luna se vi interessa vediamo se mi ricordo di dire tutti i prezzi ok qui semplicemente un tubetto di acrilico perché ho in mente di fare qualche lavoretto adesso no che vabbè vado in vacanza e quindi no però al mio ritorno mi piacerebbe fare dei lavoretti vediamo come procede io non sono assolutamente capace di dipingere però mi divertirà mi diverto e credo mi divertirei ma poi vi dirò l'ho preso solo verde perché ce l'avevano solamente verde ovviamente cosa vuoi avere tutti i colori degli acrilici ma no solo verde e questo l'ho pagato 2 euro ok poi ho preso un giochino se così si può dire visto che io ho solamente 14 anni e ho voglia di giocare ho preso questi dati contastorie vedete ogni faccia del dato ha un disegno dal quale praticamente bisogna inventare una storia credo ci sia un librettino dentro dove ti dice magari cosa dire però secondo me è molto molto più bello e interessante se la storia la invento e quindi visto che mi è piaciuta come idea per farci un video magari più avanti sapete con la mia pazzia e le mie idee strane magari in un video lanciamo qualche dato e vediamo che favoletta esce fuori favoletta alternativa della buonanotte praticamente ho preso altre cosine utili ho fatto scorta di sapone praticamente perché ho visto che c'erano diversi profumi profumazioni io adoro i saponi alla frutta mi piacciono troppo e quindi visto che una boccetta di queste e sono 400 ml quindi ma belle grandi costava solamente 2 euro ne ho presi 3 questo è melone e citriolo poi ho preso quest'altro che è mela e prugna e quest'ultimo mandarino e pesca e quindi insomma profumazioni ai frutti ce li abbiamo poi ho trovato una cosa che effettivamente cercavo da parecchio tempo e adesso sposto un po' di cose e ve la faccio vedere praticamente è questa vi faccio vedere il disegno è un filo molto semplicemente con attaccate le lampadine come questa qui e sono 10 lampadine che fanno a let e con la pila voi direte voi direte ma hai preso le lucine per la stanza come fanno in tanti no no assolutamente no anche perché io nella mia stanza sto esplodendo non ci sto più dentro le hai prese per metterle in salotto? assolutamente no le ho prese per la cantina molto semplicemente perché io ho la cantina senza luce e le cercavo cercavo proprio una cosa del genere è molto comoda perché l'attacchier la appenderei adesso vedo se appenderla sul muro o sul scaffale che ho in cantina insomma in qualche modo abbastanza vicino all'entrata in modo che poi si accende quando se ne ha bisogno e insomma io immagino che 10 let un po' di ruccia la faranno insomma quindi piuttosto che niente immagino sia meglio piuttosto e quindi finalmente le ho trovate qualche anno fa avevo visto che facevano anche la televendita di una cosa del genere forse aveva le lampadine colorate qualcosa così però ovviamente non non so non è che ho preso il numero ecco quando l'avevo vista quindi boh e trovandomela lì davanti al tagliere ho detto va che bello finalmente le ho trovate se sentite qualche rumorino è la pinky che starnutisce la mia coniglietta purtroppo è così ormai è diventata allergica e starnutisce tantissimo non so se può essere l'età che magari è correlato però va bene patatina ultima cosa ultima cosa ultima cosa ho preso un'altra cosa per farvi un video se fate i bravi no ma io mi diverto ragazzi che dico ed è questo quadernino qua praticamente praticamente è il libro delle attività ci sono ehm un bel po' di di animaletti 30 animali 266 stickers quindi insomma da quanto ho capito ci sono animaletti e ehm noi ma diciamo anche io mi dovrei divertire a vestire gli animali con tutti gli accessori è un po' come le bamboline del video che vi avevo fatto un po' di tempo fa e niente insomma dai per fare anche per fare un video diverso un po' un po' simpatico un po' così e quindi ho detto già prendiamolo anche perché nel momento in cui libro di attività nel momento in cui non lo userò più ehm avrò fatto mio tempo a crescere un pochettino mio pro nipotino e a quel punto poi ci giocherò con lui quando inizierà a apprezzare questo tipo di libri perché adesso non li guarda neanche ah scusatemi sapone 2 euro l'uno non so se ve l'avevo detto i dati 4 euro e le lampadine a led 10 euro e questo libricino 4 euro 4 4 4 euro sapevo che non sarei dimenticata di dirvi i prezzi ragazzi io non lo so devo iniziare a preoccuparmi perché mi dimentico di tutto cioè quando parlo ci sono delle volte che mentre sto parlando mi dimentico cosa sto dicendo io non penso che sia normale eh vabbè comunque prendiamola come viene tanto che ci possiamo fare non ci possiamo fare niente eccoci qua l'altro sapone lo mettiamo qua e i led li lasciamo lì in fondo perché non ci staranno mai nell'inquadratura grazie grazie per aver visto il video fino qua io vi mando un bacione grandissimo e se volete ci vediamo la prossima volta a ps vado in vacanza praticamente parto domani e tornerò al 20 quindi ovviamente se non mi sentite per un po' è per questo motivo perché non ho ovviamente la possibilità di caricare video mentre sono via e che dire buone vacanze a tutti a chi effettivamente va in vacanza a chi non ha ferie a chi lavorerà a chi starà a casa in qualsiasi situazione voi siate vi auguro comunque se non buone vacanze un periodo sereno e tranquillo che penso sia la cosa più importante di questi tempi e niente ci vediamo presto un grande 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 спorvi e a presto ciao ciao a tutti cari ciao ciao ciao